...comune, essenzialmente discutere, ho organizzato le tavole, essenzialmente discutere assieme tecnici e responsabili dei comune del progetto, quindi non è un progetto che è nando a parte, ma è un progetto essenzialmente il risultato di un'abbia partecipazione che si è creata, essenzialmente per coinvolgere i cittadini nella organizzazione di queste attività costituali, e queste saranno le tavole, queste saranno le tavole, queste saranno le tavole di rivoluzione di tutti, quindi che vedete colorati, sono tutti i rifiuti di realtà, pure che in gran parte sono stati eliminati, e ora si sta coltellando un lavoro in pienso, questi invece sono gli interventi di rivoluzione della funzione di rivoluzione, questi sono invece, perché poi dovranno essere molto otti, dovranno essere prodotti di rivoluzione delle comunità, dovranno vedere colorati, dovranno essere organizzate diverse comunità di rivoluzione, quindi possiamo vedere, essenzialmente questa è la zona di rivoluzione che realizzeremo, essenzialmente la forma alla rivoluzione metteremo le tammetrici, nelle zone più vicine metteremo essenzialmente il rivoluzione a rivoluzione, questa è la zona del rivoluzione di rivoluzione, e questa qui essenzialmente è la zona dove abbiamo rivoluzione sul rivoluzione. Queste sono le recinzioni previste, la progetta in questo lavoro è la risoluzione di rivoluzione in relazione alla linea delle recinzioni, una recinzione esterna, essenzialmente la tigre del bascolare che consente al microfano di transitarre, ma accedere alle recinzioni di rivoluzione di rivoluzione di rivoluzione e di rivoluzione di rivoluzione di rivoluzione, e ci rusterà in delle recinzioni di rivoluzione di rivoluzione. Abbiamo, tra che volete, fatto effettivamente un passo avanti per recuperare un'aria, che è di naturale a quello che è il bordo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. attenta alla salvaguardia del nostro territorio? Quando è stata? Non è proprio mai il piacere, oltre alle critiche mostre da chi, non dall'associazione, per carità, nasce con i zanici in giro, ma a volte chi fa da tutta voce, non si prende conto che non si può solo criticare un essere presente quando poi ci sono di queste onore e io ho visto Giuseppe Luciani, il dottore Cicero, che veramente hanno fatto un lavoro, non mi voglio esanare, ma voglio vedere la vita, sono stati lì a raccogliere i rifiuti, perché c'è stato un po' un problema, la ditta è giusto, chiaramente non voleva che tirasse alcuni tipi di rifiuti, perché ormai alcuni tipi di rifiuti erano così collattati con dei miei compattatori che si rischiava di fare danno alle pesi, quindi li invendono per amore i fattori, perché questi rifiuti è chiaramente... Io volevo dire qualcosa in relazione praticamente all'illustrazione del progetto del pantano punterio dove si evince chiaramente che lo studio effettuato sull'aria è carente proprio dal punto di vista strutturale, in quanto l'aria sottoposta al progetto non si esplicita praticamente in tutta la sua estensione. E mi spiego subito, praticamente l'imbaso geomorfologico del pantano punterio prevede la parte sinistra, quella che protende verso punta delle formite, ha un collegamento come tutti i pantani hanno, tutti i pantani hanno un collegamento con il mare, mentre nel caso specifico, nonostante la scienza e la competenza esplicitata nel progetto, praticamente si vede chiaramente che manca la parte terminale che doveva essere parte integrante dello studio, della ricomposizione diciamo ambientale dell'aria, perché proprio manca di quel pendulo, di quel collegamento, più volte anche studiato da storici locali, dove si evince chiaramente che il pantano è collegato come tutti gli altri pantani al mare, per cui credo che al di là della sicura promozione fatta in relazione a questa pulitura, nel pantano di cui noi praticamente diamo merito agli amministratori nella loro infinita contraddizione, perché da una parte promuovono queste iniziative spinte anche dalla capofila che in questo caso è Malta, aderiscono al progetto, però lo fanno in un modo contraddittorio, poiché mentre da una parte dove ci sono praticamente da prendere le parcelle, dove i nostri tecnici si mettono a pulire e non lo fanno praticamente perché sono degli ambientalisti, ma perché sono dei tecnici che sono stati regolarmente pagati dal comune di Pachino per effettuare quelle operazioni di bonifiche. però questa potrebbe essere, può sembrare una polemica, ma siccome l'assessore, l'ex assessore praticamente l'elogia nella sua descrizione, volevamo puntualizzare che praticamente va bene, si è ecologisti solo quando c'è un interesse specifico di parcella, ma per praticamente inoltre nella dinamica della disanima del progetto, appunto faccio notare che praticamente l'aria del Pantano Ponterio non può essere praticamente, al di là dell'osservazione, del passaggio degli animali da questa recensione, praticamente uno studio parziale, perché l'area di studio e la realizzazione di un restauro, se vogliamo ecologico e ambientale dell'aria doveva necessariamente prendere in considerazione il collegamento con il mare, perché da questo dipende praticamente il sistema funziona, se vengono poi riattivate a livello organico le funzioni naturali che il Pantano Ponterio aveva con il mare, con la sua forgia, con la sua forgia praticamente. Ora, il progetto per quanto possa sembrare imponente e sicuramente a grande merito praticamente l'averlo esplicitato, inutile prendersela con leghi ambiente, perché il progetto è fallito proprio nella sua opzione più importante, che era quello di coinvolgere il maggior numero di cittadini a questa problematica, a questa risoluzione, a questa effettuazione di un'operazione di restauro ambientale che, visto il numero delle persone che hanno partecipato alla riunione finale, non ha centrato gli obiettivi per il quale era preposto. Per cui non è una questione attinente a due persone del comune di Pachino con leghi ambiente e con questa sterile polemica praticamente impiantata ai danni di una persona che nel suo attivo non può essere criticata perché sollecita la contraddizione, perché vede da una parte il comune partecipare attivamente a questi progetti, io dico tra parentesi prezzolati, mentre dall'altra il comune stesso e le istituzioni più importanti si oppongono alla istituzione delle SIC e delle ZPS in tutto il promontorio di Pachino. Questo praticamente dovrebbe fare riflettere delle persone, perché praticamente si vede chiaramente, al di là delle esternazioni di natura proprietaria sui canali ecologici o su tutto quello che sono poi le importanti attivazioni dei sistemi ecologici nell'aria, non è che si intende con questo che tutte le aree devono essere necessariamente spropriate, come si diceva da qualche anno a questa parte da parte della Sicilia con il quale ha avuto un contraddittore abbastanza vasto dove poi si parlava chiaramente della sovietizzazione della fascia sudorientale della Sicilia. Non è questo, non c'è una contraddizione in merito all'attivazione intelligente da parte dei proprietari dell'area ad aderire a dei progetti dove poi vengono spesi dei fondi per il restauro ambientale degli stessi, questo per essere chiaro, però appunto emerge la poca partecipazione dei cittadini, al di là della partecipazione o meno di un'associazione come può essere Lega Ambiente e il progetto si pur nella sua fattiva realizzazione di importanti spostamenti di materiale che sono stati sedimentati nel corso degli anni da parte di cittadini che praticamente non avendo dove boccare le loro risulte, anche perché c'è da dire che inizialmente l'idealità proprietaria e non solo del Pantano di Ponterio ma di tutti i Pantani era quello effimero di colmarli con materiali fatti per venire appositamente se vogliamo essere proprio precisi, poi sì c'è un risveglio della coscienza perché si capisce, si intuisce che praticamente quest'opera non può essere conclusa e allora ci si riconverte intelligentemente verso l'ecologismo e verso la ripulitura dei Pantani per poterlo poi usufruire in questi termini più che in altri insomma l'intelligenza consiste anche nel potere cambiare posizione nel momento in cui non riesci a realizzare il progetto comunque per terminare il progetto seppur nella sua fattiva realizzazione ha pallito non tanto nella diciamo relazione con le Gambiette ma in quanto il comune di Pachino non è riuscito a coinvolgere perché non poteva, perché la contraddizione è forte da una parte propagandare la realizzazione di importanti attività antropiche come può essere appunto quello della riconnessione, della riconversione di una zona e darla al naturale e ai suoi animali che la frequentano mentre dall'altra praticamente il comune di Pachino continua imperterrito nella sua opposizione totale alla realizzazione del vasto sistema che l'Europa e la Sicilia nei suoi enti locali più importanti nel piani paesaggistici e naturali e poi si contrappone alla sterile polemica finale che vede in ribalta la nostra coccinella bianca che attraverso l'uso della telecamera del suo amico perché oramai l'abbiamo capito che sono amici per la pelle, cerca di punzecchiare un'associazione perché fa emergere la loro grande contraddizione fa parte della politica, questo lo so, ognuno sta dalla sua parte senza offese per nessuno però sono queste cose che fanno vedere come alla grande importanza che si dovrebbe dare a un progetto del genere e farlo vivere a tutta la cittadinanza, ci si riduce ancora e per ultimo a una sterile e meschina praticamente e polemica mentre i grandi progetti e le realizzazioni attendono come la piscina di essere realizzati per i cittadini questo è quanto, che cose c'entrava la piscina non si sa ma ecco che siamo qua a fare propaganda politica nella più grande contraddizione che possa esistere tra l'idealità del fare, il fare per parcelle e la polemica sterile delle ancelle cordiali saluti comune